Partite per il Mezzanotte 2014 La grigia Summerfall Poi Val Vibrata in giubba azzurra Che all'interno lì c'è in giubba marrone A partirete in coda Guajara Con la giubba gialla della Gushit Farof Che all'interno Vesponette in giubba azzurra Con le spalline gialle Clersoni in avanti Sempre con un margine ampio rispetto a Summerfall Che non la vuole lasciare andare via troppo Mantenendola comunque nel suo mirino La stessa distanza che c'è tra la leader e il runner-up C'è rispetto al resto della compagnia Con Val Vibrata che adesso però serra sotto Poi ancora Licia Vesponette e Guajara che si portano a contatto Clerson che affronta la curva in vantaggio su Summerfall Val Vibrata a viaggio a largo di Licia Che all'interno è in giubba marrone Di fuori Guajara sempre a chiudere il gruppo Vesponetta Le posizioni ovviamente non cambiano Con Clerson che sta andando a completare ormai La piegata conclusiva Avendo sempre Summerfall in scia Poi ancora Val Vibrata Guajara che nel frattempo ha scavalcato Licia In coda Vesponetta La retta d'arrivo Passato al paletto degli 800 Clerson che prova ancora a rubare qualcosa Rispetto a Summerfall Val Vibrata è terza Largo Guajara All'interno Licia e Vesponetta che chiude Riparte ancora Clerson Che ha abbondantemente giocato la carta dell'anticipo Summerfall e Val Vibrata le prime inseguitrici Guajara a largo Poi Licia e Vesponetta Largo di tutti E ancora in vantaggio Clerson Quando siamo ormai ai 400 Sull'attacco serrato di Val Vibrata Tra le due Summerfall Poi Guajara e Licia Val Vibrata che insiste Passa rispetto a Clerson Che prova di maniera in quota Le altre più dietro che in questo momento Faticano a intervenire All'ultimo farlo Val Vibrata da solo al comando Su Guajara a largo Che prova di ingambarsi Guajara che si lancia L'attacco di Val Vibrata Che si difende ancora Val Vibrata e Guajara Che se la vanno a giocare Nell'ultimo tratto Guajara a largo Su Val Vibrata Le due in linea Su la stessa Clerson Poi Licia Saberfolle e Vesponetta Bellissimo arrivo Tra Guajara e Val Vibrata Le due in un appassionante Testa a testa finale Con la tedesca Che rimonta passo dopo passo Rispetto a Val Vibrata E nel finale la pizzica Mirko De Muro Per la Gestuit Faroff Ai colori Peter Schirgen Al training Per la gestuit